Ciao a tutti ragazzi, oggi dopo un po' di tempo vado a riepilogarvi il mio fantacalcio, infatti scoprirete se sono rimasto primo in classifica perché nello scorso episodio ero primo in classifica, nella classifica finale, che vi mostrerò alla fine di quest'altro episodio abbiamo da ricapitolare diverse giornate perché ci eravamo lasciati alla giornata 14, quindi ci sono se non sbaglio 6 giornate da andare a riepilogare in maniera molto breve anzi credo in realtà 5 giornate se non mi sbaglio, comunque partiamo con la quindicesima giornata quindicesima giornata in cui abbiamo vinto 1-0, sia il mio portiere che il suo, Andano dice Donnarumma, hanno fatto clean sheet, quindi porta in violata Bastoni gli ha fatto assist, a me invece Lozano ha segnato e abbiamo vinto in realtà per 1-0 soltanto 71,5 punti a 64,5, quindi il gol di Lozano poi risulterà decisivo altri 3 punti in cassaforte con questa sfida, ora passiamo alla giornata 16 nella giornata 16 ne abbiamo vinta un'altra, 2-1, sempre di misura, a me ha fatto clean sheet Andanovic che nelle ultime giornate si sta veramente comportando molto bene a lui però ha fatto clean sheet Shesny, quindi paritata sotto questo punto di vista, anzi a lui ha preso anche mezzo punto in più il portiere però a me ha segnato McCerny e Lozano e a lui solamente un gol di Zaccagni e un assist di Zaccagni, quindi due gol contro un gol e un assist dell'avversario e tra l'altro anche due gol in panchina avevo, Buonaventura e Lapadula, quindi se non avessi vinto insomma ci sarebbe stato un po' di rammarico anche se Lapadula e non lo schierò quasi mai titolare Buonaventura lo sto iniziando a schierare di titolare perché nelle ultime giornate si sta svegliando un po' nel senso che comunque sta facendo quello che dovrebbe fare almeno qualche assist, qualche gol e lo sta facendo punteggio totale abbiamo vinto 72 punti a 67,5, quindi per 2-1 Passiamo alla giornata numero 17 Giornata numero 17 che ci vede ancora vincitori, stavolta per 3-0 Andanovic è altro clean sheet, a lui invece il portiere ha preso 5, a me 7 Ibrahimovic, ah questa qui era tra l'altro la giornata in cui Ibrahimovic sbagliava il rigore e il secondo rigore lo tirava Chessy, che ce l'ho io al fantacalcio e lo segnava quindi anche fortunati da questo punto di vista infatti vedete che a me Chessy ha segnato il rigore, ha preso 10, a lui Ibra l'ha sbagliato e a me ha segnato anche Lautaro Martinez con assist in panchina lui aveva Correa che comunque gli ha segnato e Buonaventura a me aveva fatto assist punteggio totale 79 a 63,5 e altri 3 punti in cassaforte Giornata numero 18 ora Nella giornata numero 18, sia la penultima, abbiamo in realtà invece perso 2-1 contro l'attuale secondo in classifica, poi a fine episodio vi mostro ovviamente la classifica totale a Danovic altro clean sheet, Reina lui comunque aveva fatto anche lui clean sheet mi sembra contro il Cagliari, non vorrei sbagliarmi ma mi sembra Lazio aveva giocato contro il Cagliari a me Deron aveva fatto assist e Leao contro il Crotone solamente un assist, aveva fatto, pure è stato anche sostituito a lui Damsgaard aveva fatto assist e Ilic ha segnato in panchina lui aveva Musso che ha avuto anche lui un clean sheet aveva ottenuto anche lui un clean sheet Ibanez aveva fatto autogoll contro la Juventus se ben ricordate e Caprare ha segnato punteggio totale aveva perso 73 punti a 71,5 e 2-1 ci siamo rifatti però in quest'ultimissima giornata abbiamo vinto 3-1 Andanovic ha subito gol nella sfida contro la Lazio ma anche a lui Skorupski aveva fatto tutt'altro che un'ottima prestazione contro il Benevento a me però ha segnato Veretout doppietta contro l'Udinese uno su rigore e uno di testa mi sembra poi ha segnato anche Berardi contro il Crotone Berardi del Sassuolo contro il Crotone e Lautaro ha segnato su assist di Lukaku proprio contro la Lazio a lui comunque ha segnato Viola proprio nella sfida tra Bologna e Benevento e Caputo è segnato su rigore proprio anche lui nella sfida tra Sassuolo e Crotone entrambi i nostri secondi portieri sportiero da una parte e Siriguo a lui dall'altra avevano comunque ottenuto un clean sheet punteggio totale abbiamo vinto abbastanza nettamente 80 punti a 69 3 a 1 in totale ed ora era il momento tanto atteso vi mostro la classifica dopo 19 giornate perché noi il fantacalcio abbiamo iniziato con qualche giornata di ritardo quindi ad oggi sono 19 giornate che abbiamo effettivamente disputato nel nostro fantacalcio e la classifica giornata recita così noi siamo primi con 40 punti il secondo a 29 quindi un buon distacco comunque di 11 punti il terzo a 26 e via via tutte le altre con l'ultima squadra che chiude a 19 punti non lo so ragazzi dopo 19 giornate siamo messi così quindi un pensierino io ce lo sto facendo sono onesto sinceramente non pensavo di ritornarmi primo però va bene comunque un gioco lo si prende come tale certo a questo punto mi piacerebbe arrivare tra primo e secondo posto se possibile comunque vedremo un po' come andrà a finire detto questo ragazzi spero che abbiate apprezzato questo video fatemi sapere magari anche a voi come sta andando questo fantacalcio se lo state facendo e noi ci becchiamo per quanto riguarda il fantacalcio tra un po' di tempo per riepilogare le prossime 4-5 giornate lasciate un like se vi è piaciuto questo video e nel caso iscrittevi se vi piacciono i contenuti che porto su questa piattaforma bella a tutti da semplicemente 6 a presto ciao